Benvenuti ragazzi o bentornati sul mio canale, sono Divix. Sicuramente questa partita ci lascia della mare in bocca e il video inizia così perché è giusto che sia così. L'Inter quest'anno punta dritta a vincere il campionato. Quando provi a vincere il campionato, quando vuoi vincere il campionato, devi avere obbligatoriamente come obiettivo quello di vincere tutte le partite, soprattutto quelle contro le squadre diciamo non big. Però d'altro canto si sa che il calcio è un gioco e non è una scienza, pertanto le partite possono andare bene, possono andare male, possono essere decise degli episodi, possono essere decise al fatto che magari i tuoi giocatori chiave vivano una giornata che non sia delle migliori. L'Inter ha giocato una partita difficile, l'ha sbloccata in modo anche discusso. Sicuramente ha lottato in un campo che metterà in difficoltà tante altre squadre. Ci portiamo a casa un punto che comunque ci sia, ci laurea del campione d'inverno, lo eravamo già anche prima della partita, ma il fatto di non aver colto tre punti ci fa capire che questa squadra non è imbattibile. Ha dei punti deboli, dei piccoli punti deboli, ha delle difficoltà, si potrebbe fare forse sì qualcosa sul mercato per migliorarsi ancora e essere ancora più ambiziosi, ne parliamo in questo video. Scrivetemi qua sotto cosa ne pensate, come sempre, buona visione! Mi tocca fare una premessa, anche se questa volta non volevo farla, sono stato veramente combattuto. Questa mattina ho fatto un video che parlava di finanza, una volta era bellissimo fare video di finanza, c'erano domande intelligenti, c'erano commenti intelligenti. Adesso ormai una guerra, sembra veramente che si sta facendo un video contro altre squadre, quindi ogni tanto mi demoralizzo e ne faccio sempre meno. Però una cosa voglio dirvela, voglio puntualizzarla, visto che tanti mi hanno scritto il debito con Octree non risulta sul bilancio Inter, stai sbagliando finanziariamente. Velocemente rispondo e dico soltanto che gli 807 milioni di euro sono calcolati con dentro quei soldi. Il conto non l'ho fatto io, io vi ho spiegato da dove arrivano quegli 807 milioni di euro. Se però vi fa stare più tranquillo dire che il debito di Octree non risulta sul bilancio Inter, dormite sereni la notte. Voglio soltanto dirvi per informazione paritaria che anche le sponsorizzazioni vanno alla holding, però quelle però le calcoliamo negli introiti, poi la holding distribuisce. Però se vi fa stare più tranquilli sì, non è nel bilancio Inter. In ogni caso gli 807 milioni, chi ha fatto quel conto ha contatto anche quei soldi, pertanto io ho inserito e vi ho spiegato. Punto, chiusa la polemica. Parliamo di questa sera. l'Inter porta a casa solamente un punto, c'è un pochino di delusione, c'è un pochino di amarezza, però ogni tanto, al posto di guardare sempre i colpevoli nella propria squadra, chi ha giocato male, i cambi, i giocatori che magari non hanno reso al massimo, gli episodi, bisogna fare complimenti all'altra squadra, perché secondo me il Genoa ha giocato veramente la partita perfetta per mettere in difficoltà l'Inter, a livello tattico proprio, ed è la prima volta che vedo quest'anno un avversario affrontare l'Inter in questo modo. È riuscita intanto a limitare tantissimo il nostro centrocampo, andandoli a prendere molto alti, facendo anche un lavoro importante, io non pensavo che riuscissero a farlo per tutta la partita, hanno avuto anche i cambi poi nel secondo tempo per riuscire ad essere freschi. E in secondo luogo sono riusciti in più delle occasioni a isolare le nostre punte. Hanno giocato una partita molto fisica, molto ritmata, quindi ad altissimo ritmo, andando a prenderci proprio su uno dei punti di forza che è il nostro, quello di giocare più a ritmo rispetto a quello degli avversari, e si sono dimostrati molto molto forti nelle palline attive, non abbiamo mai sofferto quest'anno sulle palline attive, veramente ogni calcio d'angolo non c'è neanche mai stato quasi il rischio di prendere gol, questa sera abbiamo rischiato di prendere almeno in tre occasioni. Pertanto sicuramente il Genoa è andato a prenderci i nostri punti di forza e li ha trasformati in loro punti di forza. Complimenti a Girardino, veramente faccio i complimenti a Girardino, ogni tanto bisogna fare complimenti agli avversari, non bisogna sempre dire colpa nostra, è colpa di quello, è colpa di Cambi, è colpa di Inzaghi, è colpa di giocatore. Bravo Girardino, sicuramente il Genoa è una squadra tosta, sarà difficile andare a Genoa e vincere. Andiamo però a parlare dell'Inter. L'Inter è una squadra che ha fatto 45 punti nel giorno di andata, sono una cifra importantissima, quindi sicuramente non vengo qua stasera a dirvi che schifo dovevamo vincere a Genova. Sono una cifra importantissima che mi dà una prima certezza, perché questa è una certezza, con 90 punti nel 99,9% delle volte si vincono i campionati. Togliamo quell'anno incredibile del Napoli, ma non credo che guardando la classifica ad oggi la Juventus riuscirà a farne più di 90, perché vorrebbe dire che nel girone di torno dovrebbe fare un girone praticamente perfetto. Sono anche certo del fatto che sarà difficile ripetersi, quando si corre così tanto, poi c'è sempre un momento in cui viene meno, c'è un po' di stanchezza, si perde un pochino di ritmo, ed è così un po' in tutte le competizioni, soprattutto quelle di lunga gittata. Mi piaceva tantissimo un esempio che è stato fatto in passato, mi ricordo un giornalista che riguardava il ciclismo, dicendo chi scatta, chi parte prima, poi è normale che dopo alla fine rallenti un pochino, bisogna vedere se gli avversari riescono a recuperare. Pertanto l'Inter ha fatto comunque tantissimi punti, complimenti all'Inter. Questa sera ha trovato una squadra molto tosta, che ci ha messo in difficoltà. Chi mi ha deluso e chi mi è piaciuto questa sera? Sicuramente il primo che questa sera ha qualche demerito è Sommer, perché il primo gol poteva fare sicuramente qualcosina in più. Non era una palla facile, ma non era neanche una palla difficile, quindi non la considero una papera, la considero un pallone che un portiere buono può parare. Se l'avesse fatto con la parata sicuramente sarebbe stata valutata come una grande parata, in questo caso subendo gol viene valutato come un errore barra mezzo errore. L'altro giocatore che secondo me questa sera è mancato e faccio un salto, cioè dall'1 al 9, quindi vado davanti, è Thuram che forse questa sera ha fatto la sua peggior prestazione da quando è in maglia nerazzurra. Intanto faccio i complimenti un'altra volta al G9, in questo caso Dragusin, che è un giocatore veramente molto fisico, è la prima volta che ho visto Thuram andare in difficoltà proprio nell'1 contro 1, quindi io devo capire se era lui magari in poca incondizione o è stato veramente bravissimo Dragusin a stargli dietro e a reggere il confronto fisico per quasi tutta la partita. Sicuramente Dragusin è un ottimo difensore, sta facendo bene, Thuram secondo me questa sera non era al top, perché l'ho visto tante volte anche incespicare col pallone, gli mancava proprio la fiducia nei piedi. Ma può capitare, nessuno gioca bene tutte le partite, secondo me Thuram ha fatto veramente un girone d'andata dove non ha fatto parlare soltanto i gol e gli assist, ma ha fatto parlare proprio il campo, cioè lui sul campo ha costruito e inanellato una serie di prestazioni eccezionali proprio che hanno poi creato in lui questa credibilità che l'ho messo al primo posto o tra i primi posti nel cuore di tutti i tifosi interisti. Parlando invece di chi mi è piaciuto questa sera, al primo posto ci metto Mark Ornautovic, arrivava da una prestazione secondo me molto bella in casa, questa sera secondo me si è ripetuto, perché è un giocatore che ha dimostrato di saper giocare a calcio, di far giocare a calcio la squadra, ha detto benissimo Barella, ha detto è uno dei giocatori che sa giocare meglio spalla alla porta, è uno che gioca a calcio e si vede, e si vede e secondo me quando lui è uscito l'Inter ha perso tantissimo, non che io voglia puntare il dito su Sanchez, ma Sanchez in queste partite fisiche fa fatica sempre, soprattutto in trasferta, soprattutto quando l'Inter non riesce a trovare gli spazi, fa fatica sempre, invece Arnautovic c'è uno che lotta, è uno fisico e secondo me questa sera ha fatto una buonissima partita e il gol se l'è strameritato. Tra l'altro vi faccio notare una cosa molto importante, secondo me interessantissima sul gol, il 99% dei giocatori quella palla lì provano a colpirla di prima, a lui gli arriva altezza coscia e provandola a colpire di prima tante volte rischi di sbagliare, lui ha avuto la lucidità di stopparla e di andare a fare gol e questo non è una cosa che fanno tutti. Questi sono i singoli di cui voglio parlare questa sera, non mi indilungherò a parlare degli altri elementi, l'Inter non ha fatto una grandissima prestazione, faccio fatica a trovare un altro migliore in campo, un altro peggiore, anche perché non ci sono state prestazioni disastrose. Quello che però voglio dirvi è che a questa squadra ogni tanto quando non riesce a tirare fuori la fisicità e a prevalere sull'avversario proprio su questo aspetto, l'Inter manca ancora un pochino a livello tecnico, in rapidità, freschezza. Si sta parlando di Buchanan che è un giocatore che piace, sicuramente è un giocatore diverso, ho detto tantissime volte che Quadrado quest'anno ci sarebbe servito tantissimo, purtroppo è un'arma di cui dovremmo fare a meno praticamente per tutta la stagione. Spero che l'Inter possa risolvere questo buco che in questo momento abbiamo inserendo un ragazzo che attualmente non è ancora a quel livello ma può diventarlo, soprattutto giocando in quel ruolo di esterno nel centro campo A5, se così non sarà comunque sia bisogna intervenire e fare qualcosa andando a trovare un giocatore di quel tipo. So che vorreste qualcuno con quelle qualità anche davanti, Sanchez sicuramente ha qualità nei piedi, gli manca ovviamente la rapidità di quando aveva 24-25 anni, gratis o comunque a 2 milioni, 3 milioni, non c'è niente in giro che possa fare al caso nostro. Quindi per adesso accontentiamoci di quello che c'è sul mercato, di quello che stiamo trattando, vedremo che succederà il mese di gennaio perché sarà lungo, le trattative secondo me non saranno poche, non saranno pochi nomi accostati all'Inter sia in entrata che in uscita, seguiremo come sempre tutto da vicino, voi iscrivetevi a questo tutto cosa ne pensate, della partita di stasera soprattutto, noi ci vediamo al prossimo video se non siete iscritti al mio canale e vi piace l'Inter, iscrivetevi, ciao ragazzi!